Dopo settimane di incontri susseguiti alla mutata composizione dei gruppi consigliari, c'è l'accordo sulle presidenze delle nuove commissioni, che già dalla prossima seduta di Consiglio Comunale, prevista per domani, si presentano con un nuovo assetto. L'appuntamento questa mattina in Via Verdi, dove i primi sei organismi riuniti hanno eletto i rispettivi presidenti. In particolare Carmine Schiano sarà capo della commissione ambiente, Giovanni Formisano presiderà infrastrutture e lavori pubblici, a Maria Lorenzi resta la commissione cultura e turismo, a Teresa Cagliazzo va quella all'urbanistica e beni comuni. Assegnata poi a Vincenzo Gallotto la commissione welfare, sanità e pari opportunità e a Elio Itzi quella del personale. Nel corso della mattinata inoltre si è proceduto alla prima riunione dell'osservatorio permanente Centro Storico Unesco, che ha eletto presidente all'unanimità, la consigliera Elena Coccia, che ha lasciato l'incarico di vicepresidenza del Consiglio. La nomina dei nuovi presidenti è proseguita nel pomeriggio ed ha visto riconfermato alla commissione lavoro Antonio Crocetta. Arnaldo Maurino sostituisce Salvatore Pace a capo della commissione scuola, allo sport viene eletto Luigi Zimbaldi, quella affari istituzionali va a Gaetano Troncone, mentre restano ad Elpidio Capasso la commissione bilancio ed il patrimonio ad Enzo Varriale. Insediata la commissione speciale su Bagnoli Futura, che non ha ancora eletto il suo presidente, mentre Andrea Santoro sale a capo della commissione trasparenza.